Si è vista una partita, si sono visti 95 minuti belli, intensi, che hanno premiato il Pescara ma che hanno comunque valorizzato le qualità della sua squadra. Abbiamo fatto una buona gara fino al secondo gol, secondo il mio punto di vista. Abbiamo sofferto i primi dieci minuti, il Pescara è stata la squadra che qui a Picerno ci ha messo più in difficoltà nell'approccio alla gara. Il Catanzaro? Assolutamente sì, nei primi dieci minuti il Pescara non ci ha fatto uscire dalla nostra metà campo. Poi abbiamo preso le misure e credo che abbiamo fatto proprio una buona gara. Abbiamo fatto buone cose, peccato per alcuni episodi, ma soprattutto non parlo dell'albitro come al solito. Credo che c'erano due o tre situazioni da gol da fare, capitato sui piedi anche dei calciatori nostri più rappresentativi. Il tiro da solo all'interno dell'area di rigore di Ceccarelli, quello di Albadoro sulla linea di porta che per la legge e per la dinamica è un po' più facile che vada dentro e che poi esca fuori. E poi invece dopo il secondo gol secondo me abbiamo sbagliato a mollare nell'atteggiamento. Abbiamo non più ragionato, non siamo rimasti in partita e abbiamo perso meritatamente contro secondo me uno degli attacchi più forti del girone. L'analisi l'ha fatta in maniera chiara e precisa, le chiedo quanto nello specifico quei tagli che ha fatto secondo me molto bene questa sera Merola alle spalle della vostra linea vi hanno creato problemi. Ma ci ha creato problemi la verticalità della squadra avversaria, però tutte con palle in uscita nostra ragionando non benissimo sulla chiusura di alcuni spazi. Il primo gol parte da una palla che abbiamo noi, una transizione rapida e c'è il calcio di rigore e il secondo invece su una palla persa da Andrea, su un presunto fallo, anche lì eravamo aperti e la qualità degli attaccanti avversari si è vista assolutamente. Però poi nel computo dei tiri se guarda il tabellino abbiamo tirato più del Pescara fra i tiri in porta e i tiri fuori, questo determina il fatto che la squadra continua ad essere una squadra che propone oggi abbiamo imparato alcune cose che dovremo registrare sicuramente. Le chiedo un'ultima cosa prima di salutarla perché ha fatto un'analisi a 360 gradi lei ha detto che dopo il gol del 2-0 la sua squadra ha mollato. Ha mollato dal punto di vista mentale oppure sotto il punto di vista atletico visto anche il primo caldo è venuto fuori il Pescara di Zeman? No, io credo che il caldo c'era per tutte e due le squadre, il terzo gol è sulla logica di una squadra che ha mollato tendenzialmente perché non puoi prendere il secondo e prendere il gol dopo un minuto sulla prima azione dietro alle nostre spalle quindi lì la squadra l'ho vista un attimino incapace di capire quello che stava succedendo forse avevamo posto tutte le attenzioni sulla vittoria e quando si gioca solo per un risultato è normale che ci si possa ritrovare in questa situazione è normale che alla fine la squadra più esperta perché è la realtà e con valori tecnici maggiori ci ha messo in difficoltà credo che anche la lettura dopo il 2-0 se non avessimo preso il terzo gol avremmo potuto riaprirla la traversa del nostro capitano con Ferrani la squadra mi è anche piaciuta per alcuni tratti mi dispiace soprattutto che è una partita che 0-3 non dimostra quello che è veramente accaduto in campo si può perdere ma secondo me questa è una partita da poter perdere 2-3, 3-4 non 0-3, uscire da questo incontro a 0 gol all'attivo su questo sinceramente sono più rammaricato degli errori difensivi le faccio fare una domanda da studio da Massimo Profeta e Fabio Ferraresi e la liberiamo Massimo e Fabio per il tecnico lungo Fabio Ferraresi no io al mister chiaramente mi associo ai complimenti fatti e se mi saluta Ciccio Dettori con cui ho giocato che è un amico e sicuramente lo recupererai no mister per i playoff non è un infortunio serio allora Fabio Ferraresi le fa i complimenti si associa ai complimenti le chiede di mandare un saluto a Ciccio Dettori con il quale ha giocato e le chiede se recupera per i playoff ma non lo sappiamo è ancora un'incognita perché il problema a ginocchio sta andando avanti purtroppo è stato anche a curarsi fuori e ancora non l'abbiamo risolta è un'incognita questa possibilità Ciccio ci è mancato ovviamente però ancora è un punto interrogativo anche per i playoff io la ringrazio mister e faccio i complimenti e chissà magari rincontrarsi ai playoff perché tutto è possibile sarebbe un grande piacere